Domani il COISP, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, protesterà dalle 11 presto la stazione ferroviaria di Sulmona per contrastare la chiusura del presidio di polizia e chiedere l'adeguamento dell'organico. Il COISP si regge in una nota, come aveva annunciato in concomitanza della riunione prevista dal Ministero, poi rinviata per la chiusura della polfer di Sulmona, si ritroverà presso lo scalo Peligno per chiedere l'aumento dell'organico e non la chiusura della polfer. Non è possibile che il secondo scalo ferroviario di Abruzzo sia lasciato morire lentamente, non aumentandone le risorse umane, fanno notare dal sindacato. Auspichiamo che le forze politiche e sociali, i cittadini, siano a fianco del COISP in quest'ennesima battaglia per scongiurare la chiusura della polfer e pianificare le prossime iniziative a sostegno di questa causa che interessa tutta la Valle Peligno e non solo, considerato che i treni in transito da Sulmona si dirigono sia verso Roma sia verso Napoli, concludono dal sindacato.